Ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Troviamo tratto chiuso con traffico bloccato e coda di 2 km per un mezzo pesante in fiamme all'altezza del km 26. In A1 possibili disagi per presenza di veicolo fermo o in avaria tra Chiusi e Valdichiana per chi viaggia in direzione nord. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario regionale 6953, piazza Alserchio, Pisa Centrale è fermo tra San Pietro a Vico e Lucca per un problema a passaggio a livello, le cui cause sono in corso di accertamento. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, da fine mese fino a fine settembre dalle 16 alle 24 il parcheggio della stazione costerà 1 euro l'ora. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie!